in questo libro l'italia di dante viaggio nel paese della commedia racconto come una sorta di diario zibaldone sguardo a tutte le occasioni del viaggio racconto il viaggio che ho fatto tra il 2014 e il 2016 in tutti i luoghi d'italia che sono citati anche fuggevolmente nella commedia dantesca e perché questo in fondo per un'idea che avevo maturato già tanti anni fa stimolata oltre che dalla mia passione per l'italia e per il viaggio dal senso di concretezza nella definizione dei luoghi che ha la poesia di dante in fondo la poesia di dante è sempre radicata fortemente pur parlando dell'aldilà è sempre radicata fortemente nella sostanza fisica materiale biologica proprio terragna proprio del mondo concreto del modo come questo mondo si attraversa si percorre del resto tanti scrittori hanno osservato questa dimensione della poesia dantesca dino campana parlò di da dante la sua poesia di movimento e sul movimento della commedia ha delle pagine bellissime osip manderstam d'altra parte con hauerbach si può dire che dante sia anche il poeta paradossalmente il poeta del mondo terreno un poeta che ha definito l'italia dal punto di vista linguistico culturale geografico nel suo de vulgari eloquenzia ma poi in tutta l'esperienza del viaggio oltremondano un viaggio nell'aldilà che chiama continuamente in causa la terra la sua storia i suoi personaggi e chiama in causa soprattutto l'italia in tutto il tuo contesto percorrendola in lungo e largo anche nei luoghi dove dante non è mai stato dal tirolo da tiralli fino all'estrema punta meridionale della sicilia pacchino ecco io sono andato in tutti questi luoghi ho attraversato l'italia di dante interrogando però nello stesso tempo l'italia di oggi quello che vedevo il deposito storico culturale linguistico artistico lasciato nei secoli trascorsi da dante in questi luoghi luoghi che spesso hanno mutato completamente volto che sono stati sono costruiti in tanti modi che hanno avuto una storia contraddittoria io in fondo ho cercato di attraversare in parte anche questa storia contraddittoria oltre a fare riferimento sempre al contesto dantesco a indicare le ragioni le occasioni gli eventi contemporanei no che che portano dante a interrogare a chiamare in causa quei luoghi però poi ho cercato di seguire le tracce storiche depositate in quei luoghi certo in alcuni casi quando si trattava di grandi città con una storia immensa non ho certo ripercorso tutta questa storia ma quando invece erano luoghi marginali minori poco noti insomma allora era bello interrogare tutta la storia che ci è passata nel tempo e poi interrogare i volti contemporanei di ciò quelle tracce contemporanee di queste dell'italia di oggi di che cosa è diventata questa lì italia nella nella sua persistente bellezza ma anche nella sua lacerazione nel nel in ciò che insomma ha fatto crollare l'orizzonte storico lì depositato insomma questo è stato quindi uno zibaldone personale che ha chiamato in causa il in un raccordo continuo il passato il presente dante l'oggi la cultura di oggi la mia cultura quel poco che ho imparato nel corso della mia vita gli incontri le persone a livello autobiografico nel senso di un'autobiografia culturale insomma i personaggi incontrati scrittori amici e amati come luigi malerba come andrea zanzotto come giovanni giudici e tanti altri scrittori contemporanei poco noti magari ma così in attività ancora oggi come per paolo teodaldi e francesco permunian ecco sono andato non sono andato a cercare le 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 celebrities naturalmente ecco però ecco uno zibaldone anche su che mi ha fatto risalire indietro ai momenti iniziali della mia esistenza per esempio quando ho attraversato la via di burtina valeria nel passo di monte bove che oggi si percorre molto poco perché si percorre l'autostrada roma l'aquila pescara passando lì mi è venuto in mente che lì è passato il corteo di automobili del re vittorio emanuele terzo in fuga da roma dopo l'otto settembre 1943 e il capo del cerimoniale della real casa era un militare vittorio puntoni che in realtà era padre del mio professore di italiano alberto puntoni che è stato un punto di riferimento del liceo che è stato veramente credo un punto di riferimento essenziale per la mia formazione letteraria una cosa che non avrei mai ammesso nella mia giovinezza ma che poi dopo ho scoperto e capito ecco quindi affacciato su questa persona della mia vita ma poi le combinazioni infinite che hanno chiamato in causa nei luoghi di oggi i personaggi e le situazioni dantesche ne voglio citare solo una come esempio nella visita al vaticano alla tomba di san pietro di pietro a cui fa riferimento naturalmente dante nella commedia nelle grotte vaticane sono sepolti molti papi del passato e la cosa che mi ha sorpreso che non avrei mai immaginato che sono tra loro vicini i due sepolcri di boniface ottavo il nemico di dante e di niccolò terzo il papa che dante incontra nella bolgia dei simoniaci e che sta giù confitto nel foro di fuoco muovendo e mostrando i piedi bruciati e questo niccolò terzo se vi ricordate dice a dante scambia dante per boniface ottavo e crede che boniface ottavo è giunto all'inferno e tocca subentrare a lui seguire la sua niccolò terzo scenderà più giù e boniface ottavo si metterà sul posto di niccolò terzo sei tu già costirritto sei tu già costirritto bonifacio ora visitando le tombe vaticane mi capita proprio di vederli vicino proprio e questi due che sarebbero all'inferno dal punto di vista tantesco invece lì e nelle grotte vaticane stanno in sepolcri abbastanza insomma interessanti anche dal punto di vista artistico fatti costruire dai loro nipoti stanno lì tutte e due vicini l'uno all'altro ecco una serie di combinazioni ma ce ne sono tante altre tante altre che riguardano in causa la storia vicina la storia contemporanea le tracce per esempio che ho trovato in tante labidi passando nei posti più diversi su orrori stragi insomma scontri militari assolutamente poco noti specialmente le stragi naziste la resistenza no quante labidi ricordando partigiani carabinieri personaggi uccisi e di cui non sappiamo più nulla e qualche volta mi è sembrato un atto di pietà registrare i loro nomi no oppure ecco addirittura nel centro di firenze vicino palazzo vecchio toccare l'edificio dell'accademia dei georgofili dove una lapide ricorda una strage mafiosa del 1993 che fece saltare l'edificio e fece morire il custode la sua famiglia che stavano là dentro e anche uno studente di passaggio ecco una serie di cose di questo tipo ma che sono state tra le tante che che ho voluto ricordare per dare un'idea del percorso di questo di questo libro su come questo libro è costruito che è un omaggio a dante un omaggio all'italia e uno sguardo insomma che cos'è anche la cultura oggi cos'è diventata la bellezza del nostro paese e la storia della sua cultura sempre nel segno e nel nome del grande dante alighieri basta questi diciamo